...viene ritrasformato, si riparte con la catena da capo, cioè viene riassorbito dai vegetali. Infatti in zoologia c'è una frase molto particolare che sommariamente dice così La preda è un animale che nasce preda, vive da preda e muore da preda. L'erbivoro, scusatemi, è un animale che nasce preda, vive da preda e muore da preda, l'erbivoro. Il carnivoro, il predatore, nasce preda, vive da carnivoro da predatore e muore da preda. Perché il ciclo completo anche di un predatore è quello di finire preda dei microorganismi. Quindi un predatore non è sempre predatore, un cucciolo di leone è una preda di altri carnivori spesso. Applicato alla nostra cara savana, ma anche negli ambienti mediterranei, i predatori degli ambienti mediterranei, che potrebbero essere la volpe, quando nasce è solo un cucciolo che può essere predato, se è piccolo, oppure da qualche altro, insomma, anche da cani che potrebbero, se li acciappano, eliminare. I fattori biotici sono questi. Il ciclo è continuo, nulla viene disperso. La cosa bella in natura è che nulla diventa rifiuto. Non esistono i rifiuti. E questo era vero anche per la società e la civiltà umana prima dell'avvento dell'era industriale. Non c'erano rifiuti, perché si producevano solo rifiuti, tra virgolette, di sostanze organiche, che ributtate nei terreni o intorno alle città ridiventavano sostanze organiche. Il rifiuto invece moderno è un rifiuto che non riesce a infilarsi da nessuna parte in questi cicli. La plastica, un copertone d'auto. Non c'è ancora un microorganismo capace di attaccarlo e disintegrarlo. C'è il freddo, il gelo, ma per disintegrarlo a volte impiega tempi lunghissimi. Una lattina può rimanere lì tale anche per centinaia di anni. Una bottiglia di vetro rimane tale per mille anni. E così via. C'è proprio un tempo di decomposizione naturale dovuto magari al sole, alla temperatura. Un attimo solo che vi do il microfono per le domande. Così approfondiamo se c'è bisogno. Se ci puoi spiegare meglio, il ciclo della plastica. Come mai ci è arrivato sto ciclo? Sì, ho capito che tra l'altro la plastica deriva da sostanze organiche. Il petrolio è una sostanza naturale, non è una sostanza inorganica, inquinante come sembra. Diventa inquinante quando ce n'è troppa. Perché? Perché la molecola, la struttura che forma la plastica, è una molecola studiata, costruita e assemblata in laboratorio. Quindi è prodotta dall'uomo. E non è una molecola naturale. Dal petrolio. Perché la molecola... Organico. Allora, il petrolio che è di natura organica ha una caratteristica fantastica per certi versi. Cioè all'interno del petrolio ci sono delle catene, delle molecole. Cioè all'interno del petrolio ci sono delle componenti che possono essere smontate e rimontate come si piace, come ci piace, come si vuole. Infatti col petrolio ci fanno dolcificanti, plastica, ma anche medicinali, coloranti, tessuti. È sempre lo stesso petrolio. È una molecola molto grande, non si può riassumere perché è veramente complessa e varia anche a seconda dei tipi di petrolio, perché non esiste un solo petrolio in tutto il mondo. Ma di bello c'è che può essere smontata e rimontata. Per smontare questi pezzi e rimontarli produce nuove sostanze. Infatti la scoperta e l'invenzione della plastica è stata una grande scoperta, una rivoluzione, perché è formato un materiale plastico resistente sotto mille aspetti, sotto mille forme, a partire da una sostanza organica. Alla fin fine la morale della favola è sempre che abbiamo bisogno della natura per attingere, copiare e a volte anche modificare. È la struttura in sé del petrolio che permette questa lavorazione, come se fosse, anzi, è una sostanza che permette, infatti si dice, tante lavorazioni. Nonostante sia una struttura che è di origine biologica, il petrolio si è formato per decomposizione di animali e piante, è stato seppellito nel suolo da eventi geologici, è distribuito nelle rocce, non si trova sempre con strati belli, compatti e puri, spesso è miscelato a terreno o a sabbia e già durante l'estrazione viene estratto purificandolo in parte già nell'estrazione. Quindi viene estratto solo la componente petrolifera mettendo delle sostanze chimiche. E poi ha delle lavorazioni continue. Quelli che conosciamo come prodotti del petrolio, benzina, diesel, metano o quant'altro, sono quasi dei sottoprodotti, rispetto a tutto quello che se ne può ricavare costruendo altre molecole. Fertilizzante, sì, di tutto, di tutto, è un elenco che non avrebbe, non finirebbe stasera, insomma, non avrebbe fine quanto è lungo. I fattori biotici, i fattori invece abiotici, cioè biotici significa che derivano dalla vita, infatti animali, piante, microrganismi sono elementi viventi. Abiotici non sono viventi, sono altri fattori tipo luce e calore, passo con il mouse, allora luce e calore, quindi temperatura, acqua, latitudine, altitudine, precipitazioni, temperatura, vento, suolo e pressione atmosferica, anche questa può influenzare. Sembra strano, ma tutti questi fattori sono quelli in pochi che ci sono passati sotto gli occhi in questi giorni con quelle cartine che vi rifilavo ogni due o tre, cioè la cartina della temperatura, quella del suolo e quella delle piovosità, perché quei fattori distribuiscono la crescita delle piante a seconda della loro quantità o limitatezza. Andiamo avanti. Adattamenti estremi al clima arido, un clima arido a volte non è solo caldo, può essere anche arido freddo. Infatti qua non a caso ho messo l'ulivo di pianta di ambiente mediterraneo, pagina fogliare quasi biancastra sotto, grigiastra sopra, tomentosa, provvista di cera, quella colorazione grigiastra, bluastra, è della cera che si forma, che la pianta produce a sue spese d'energia, perché non la produce gratis, mettendole sulle foglie, sopra e sotto in alcuni casi, per evitare la traspirazione, per non perdere acqua, perché la parte bianca, biancastra, grigia riflette di più i raggi del sole, quindi la foglia non si riscalda. Poi, altra necessità è quella di spessire le foglie, farle più grosse, più spesse, proprio di volume, più alte di spessore, in modo che gli stomi, le strutture da dove perde l'acqua, le vedremo tra un po', siano potenzialmente, hanno la potenziale di essere chiusi subito, bloccati, e sono un po' più nascosti, alla fine, tutto qua. E dicevo, l'aridità non è solo quella delle zone calde, ma anche quelle delle zone fredde. Sembra un po' paradossale, ma degli abeti che vivono in montagna, a una certa quota, a meno 10, meno 3 anche, l'acqua non è disponibile, perché a meno 3 l'acqua è ghiaccio, è un ambiente arido, freddo. Mi riferisco alle quote alte, o alla tundra, o alla taiga, quelle formazioni di alta quota, o vicino ai poli nord e sud. Quindi le piante di quegli ambienti possono essere assunte come per esempio in questo caso degli abeti, questa è un abete azzurro del Colorado e questa è una picea, invece, azzurra, sempre degli Stati Uniti, orientali, dell'Oregon, da quelle parti. E la cosa caratteristica, se guardate a destra, c'è una pianta che è meno azzurra. La riuscite a vedere? A sinistra è più azzurra, a destra è meno azzurra. Questo più azzurro o meno azzurro è una caratteristica genetica intrinseca, cioè il seme nasce viene una pianta azzurra. Non è indispensabile che sia più azzurro o meno azzurra. Però, se è più azzurra, è più resistente, ha maggiore quantità di cera, riflette maggiormente la luce solare e perde meno acqua. Se è meno azzurra, è un po' più verde, è un po' meno resistente. Piante di questo tipo, come è il caso di questi abeti, vengono allevate da seme all'inizio e poi, quando si trovano degli esemplari molto belli, molto colorati, di azzurro, di bluastro, di grigio, si moltiplicano per innesto. Così faremo tutta una serie di piantine con quelle caratteristiche di colorazione, che, vi ripeto, è sempre dovuto a una necessità di ridurre le perdite d'acqua. Un'altra caratteristica di alcune piante è quella della peluria, come la Quercus pubations, che avevamo visto qualche giorno fa, che è la pagina inferiore ad la pelosità. La peluria svolge una funzione simile a quella della patina, della cuticola di cera, che riveste alcune foglie. Se le foglie del deserto, oltre l'agave, non sono di questa colorazione, sono verdi, è perché hanno scogitato altri sistemi. Questo è uno dei tanti sistemi, quello della colorazione. Ma c'è anche l'ispessimento fogliare, la ritenzione idrica con altri fattori che la regolano, e gli stomi sempre belli, grossi, turgidi, che si possono subito chiudere. L'esempio lampante è quello di vedere delle gocce d'acqua sulle foglie di cavolo. Non lo bagnano, ma arrotolano, formano tante palline e arrotolano. Quindi la pianta non solo si deve difendere dall'eccessiva evapotraspirazione, ma anche dall'eccessiva umidità. Se il cavolo che vive in ambienti mediterranei e quindi è soggetto a forte precipitazioni, evita di assorbire acqua dalle foglie, perché con questo strato di cerume che lo ricopre, si libera dell'acqua velocemente. E ancora, adattamenti questa volta morfo-funzionali. Morfo-funzionali, non vi voglio allarmare. Morfologia significa la struttura esterna della pianta. E in base alla struttura, la funzione. Questa ghianda che dicevamo prima, ha una capsula, una cupola così grande, avrà una funzione che potrebbe essere? Che serve? Farla così grande. Questa capsula è molto più costosa a produrla per l'albero piuttosto che quella piccola. Protezione sì dai roditori e quant'altro, ma anche? Disidratazione un po' di più perché l'avvolge in modo maggiore. Anche isolante termico, ma anche rotolamento. Se sta in pendenza, questa non rotola tanto facilmente come questa. Quindi rimane lì, altrimenti tutti i semi se ne andrebbero tutti al mare. Inesagerato. Ok? È più pesante, ha queste punte che servono ad ancorarla. Basta un po' d'erba, un po' di substrato, di prato o foglie, resta ancorata e si blocca. Quindi a non essere dispersa eccessivamente. Ogni funzione, ogni forma serve a qualche cosa. Io mi diverto sempre a dire ai bambini a scuola, cosa serve un filo d'erba? E beh, quando cominciano a pensare ci arrivano. Un filo d'erba, se è verde, a che serve? E cominciano a fare, serve a un insetto che se ne nutre. Ok? E se è secco? E l'acqua diventa un po' più complicato. Serve a un uccellino per fare il nido. E se è marcio, e lì diventa ancora più complicato, serve ai decompositori per farci l'humus. Quindi non si butta niente, neanche un filo d'erba. Allora, la riduzione della superficie traspirante, l'abbiamo detto, si manifesta con meccanismi diversi per non disperdere le quantità d'acqua necessarie alla vita. Eccola qua, la nostra famosa macchia mediterranea. Vista così, un po' dall'alto, sembra pure un bel bosco. Ma in realtà, quello che va a influenzare la crescita della macchia mediterranea, oltre alla quantità di suolo, è la temperatura. Perché se è suolo ce n'è poca e temperatura ce n'è tanta, la macchia mediterranea, più che una macchia vera di alberi di 10-12 metri, diventa qualcosa fatto di dimensioni pari alla metà. Cioè la macchia mediterranea, possiamo trovarla anche di 15 metri, ma la possiamo trovare anche di 3 metri. Con gli stessi alberi, con le stesse specie. Soltanto il suolo e la temperatura. Quindi anche l'acqua, suolo, temperatura e acqua, questi 3 parametri che prendo in considerazione in questo momento, possono limitarne la crescita. E questo si rilascia a quello che mi chiedeva qualcuno, diceva, ma visto che io ho delle sequoie, quanto sono diventate grandi le sequoie a Francavilla? Allora, trovando l'ambiente adatto, dopo diverse prove, perché non è facile un ambiente così differente, con una piovosità inferiore alla metà, dove crescono le sequoie, c'è una piovosità pari a circa 3.000 mm all'anno. Piove sempre. A Francavilla ce ne sono 700-750 circa. È quasi un deserto rispetto a 3.000 mm. Però, piantando le piante, in una parte in cui l'acqua viene trattenuta dal suolo, e questo può rientrare nelle vostre soluzioni, nei vostri adattamenti, in quello che dovete immaginare ed escocitare, la parte, l'ho messo in un punto in cui c'è un piccolo accumulo, un maggiore accumulo di terreno, quindi il substrato più profondo. Vicino passa una piccola falda d'acqua, la sequoia è cresciuta, circa, sarà 18 metri in 16 anni, no, scusatemi, 16 metri in 18 anni, perché in casi ottimali arriva a crescere anche quasi un metro all'anno. La sequoia è sempre vina, quella snella, slanciata, molto alta. Di per contro, negli stessi ambienti, all'altra specie di sequoia, che ne esistono due specie al mondo soltanto, negli stessi ambienti l'altra specie è lentissima, diventa col fusto più grosso, ma in 15 anni è diventato solo 5 metri, più o meno. È un'altra pianta, ha altre esigenze, avrebbe bisogno di poposità magari anche dall'alto, non gli basta solo quello che sta giù, e soprattutto avrebbe bisogno di freddo, per le piante di alta quota. Quindi questi fattori modificano sostanzialmente, modificano in modo incredibile la crescita delle piante. Spesso capita tra di noi dire, ma da me è diventato grande, il pomodoro sono 2 kg e da me invece sono 30 grammi. Ma perché c'è qualche cosa, oltre le coltivazioni, c'è qualche fattore come magari nutrienti nel suolo, che cambia, si dice, da un palmo all'altro. Ed è vero, in un palmo di terreno, una misura di 30 cm circa, il terreno può essere diverso. 30 cm più là cresce, e rigogliosa produce frutti. 30 cm più qua stenta, oppure secca. Allora cosa fare? Fare attenzione quando ci si va a imbattere in queste situazioni. Per esempio il castagno ha bisogno di suoli di natura brunastra, che sono di pH, altro fattore che avevamo parlato all'inizio, leggermente acido. Il fattore pH neutro è 7. 6,8 cresce il castagno. 7,2, 4 parametri più là, non ci cresce. Si può misurare con la cartina tornasole, che è un esperimento che si fa a volte nelle scuole medie con i bambini, ma anche dall'esperienza, se un vicino ha lo stesso terreno e ci sono delle piante di castagno. Qui per esempio intorno a noi, siamo a una quota estremamente bassa per il castagno, eppure ci sono dei begli alberi verdi, rigogliosi, che producono castagne qua intorno. Quando il clima, naturalmente, gli dà una mano. Mi pare che sì, che c'è qualcosa anche più avanti. L'olivastro è l'antenato selvatico dell'ulivo, non da confondere con l'oleastro. L'olivastro è una pianta di ulivo i cui genitori potevano essere domestici, insomma, per capirci. Genitori domestici, pianta semiselvatica, olivastro. L'oleastro, invece, è sempre selvatico, nasce selvatico e produce figli selvatici. In ogni caso, sono ottimi porti innesti per suoli estremamente degradati e sfruttati. Altre strutture, eccole qua, delle piante. Le forme a foglie di ago. Una forma a foglie di ago sottile, cosa fa? Espone una ridotta superficie, traspirando il rapporto al volume. Cioè, un albero di pino ha un volume enorme. Ma poi, se vai a vedere da vicino, la superficie di foglie che espone è ridottissima, sono tutti aghi sottilissimi. E diventa però un albero così grande. La forma ad ago è una strategia. Altra strategia è quella di fare questa cuticola, che dicevo prima, a proposito dell'espessimento. E la pianta che sta illustrata in basso, ve la indico, eccola qui, è un'altra quercia di origine orientale che è arrivata in Puglia, molto tempo fa. E questa è la Quercus coccifera, detta anche quercia spinosa, che, guarda caso, non è un albero meno arbusto. tre metri circa di altezza, quattro, cinque al massimo, ma non è mai un grosso albero di venti metri. E un'altra quercia della Puglia. Ha delle foglie molto piccole e anche, in alcuni casi, più spinose di quelle mostrate in figura, specialmente nella fase giovanile, per difendersi dagli animali, ha le foglie tutte circondate di spine, tanto che sembra un piccolo agrifoglio, in miniatura. Ma è una quercia, Quercus coccifera, o quercia spinosa. Questa invece è convergenza evolutiva. cosa è successo? Che delle piante diverse, trovandosi negli stessi ambienti, hanno escogitato gli stessi sistemi. Allora, abbiamo la tamerice, qui a destra, che è una pianta che viene utilizzata anche nei giardini, a volte molto resistente al caldo, produce dei bei fiori, o cresce lungo i litorali, o nelle zone dei fiumi, nelle parti basse. Ha delle foglie, guarda un po', molto simili a quelle della casuarina, che è una pianta invece di enormi dimensioni, la tamerice arriva a 7-8 metri, la casuarina arriva a 40 metri, però la casuarina viene dall'Australia e vive lungo l'oceano, lunghi bordi del continente dell'Australia, con forti escursioni oceaniche, quindi di salinità, oltre che temperatura, e ha delle foglie molto simili, sembrano degli aghi, ma in realtà erano delle foglie piatte, che trasformandosi poco alla volta, poco alla volta, nell'evoluzione della pianta, sono divegliati degli aghi, sottili e lunghi. L'ultima pianta ben nota e conosciuta è il cipresso, che ne esiste in tante specie, tantissime specie, in Italia è quello più diffuso, è il cipresso comune, con due forme, quella piramidale, stretta, utilizzata per le ville, e quello largo, come frangimento per imboschimenti. Ha le stesse caratteristiche ecologiche, però diciamo che quello a forma stretta può essere facilmente danneggiato dalla neve, perché essendo così compatto, se si posa la neve, lo apre in diverse porzioni. Invece quello con i rami orizzontali, la neve la può scaricare verso il basso ed è un po' più adatto per le zone che stanno più in alto. Poi c'è il cipresso dell'Arizona, di colore grigiastro, e torna di nuovo quel colore grigiastro, bluastro, che è una pianta rusticissima, dicevo rusticissima, che cresce in ambienti veramente difficili. L'Arizona ha dei deserti e sta pianta cresce nei canyon dei deserti dell'Arizona. Arriva intorno ai 15 metri di altezza ed è stata usata e abusata in tutta Italia per i frangimenti, per l'ornamento e per anche produrre massa legnosa, rimboschidenti. Perché ha la crescita un po' più veloce, in condizioni ottimali, rispetto al cipresso comune. Poi ancora, eccolo qua, il famoso pino loricato con modificazioni morfologiche, modificazioni della forma. Una pianta giovane, adesso sicuramente vi verrà da sorridere, è questo pino qua che ha 150 anni ed è un alberello giovane e giovane, quello indicato dalla freccia in alto. Ha 150 anni con una pianta giovane e vive in terreni, in ambienti molto difficili, limitativi si dice, che con il tempo, pur di sopravvivere, pur di andare avanti e sopportare il peso della neve, il vento e i fulmini, il carico della neve in questi punti può arrivare anche a due metri, spesso e volentieri arriva a due metri, due metri di neve su questi rami, produrrà dei danni enormi. Cosa fa? O perde parte della chioma, rimane solo quella sotto vento, perché da questa parte non ci sono rami, quindi dove c'è la freccia si assume che ci sia un vento maggiore, e invece sotto vento i rami sono stati lasciati liberi di allungare per un po'. Oppure lo stesso albero che in condizioni ottimali arriva a 40 metri, sul pollino è rimasto relitto, anche per modificazioni antropiche, a degli arbusti che sembrano dei grossi bonsai, alberi come questo qua indicato dalla freccia possono essere altri solo 5 metri, da 40 a 5 metri, stesso albero, in condizioni molto 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 più estreme. Naturalmente gli esemplari migliori con il fusto dritto sono stati accuratamente selezionati dai tagli, quindi tutto ciò che era bello dritto è stato eliminato. E sono rimaste queste piane che sono gli scarti dell'industria del legname. grazie a questi scarti è sopravvissuta la specie. Però c'è un vallone sul pollino, si chiama vallone del vascello, è una zona impervia, difficile da raggiungere, dove ci sono ancora degli alberi centenari, quindi di 200-300 anni, con una forma colonnare, piramidale, alti circa 30 metri. e quelli l'oricato, ah sì, scusatemi, l'oricato, il nome in italiano, perché uno degli studiosi che l'ha classificato, che è venuto dopo, l'aveva associato alla forma della corazza delle loricche romani. I romani, quando combattevano, avevano una corazza fatta di placche, di cuoio, o cortecce d'albero resistente, assemblate tra di loro, messe davanti e dietro per protezione del busto, con una forma esagonale. Questi esagoni, assemblati tra di loro, formavano una corazza. E la corteccia di quest'albero, mi dispiace, non ho una foto nel dettaglio, ha delle formazioni, non solo estriate, come tutti gli alberi, ma a forma di placche esagonali o pentagonali, messe tutte uno vicino all'altro, l'oricato. L'eucodermis, invece è il nome scientifico, perché ha la corteccia bianca, biangrastra, di colore grigio chiaro, questa si vede nelle foto, che è quasi la stessa colore delle rocce calcaree su cui cresce. Quindi l'eucodermis. Andiamo avanti. Qui ci sono due piantini che vivono in un ambiente simile, ma un po' lontano, la Sardegna. C'è l'astragolo dragante e il fiordaliso spinoso. Sono due piante che in altri ambienti, con altre specie simili, non queste, formano delle piante erbacee. Presta poco per capirci come i papaveri. Immaginate una forma da un papavero, alto, tenero, bello, a qualcosa del genere, che sembrano dei cespuglietti nani, sembrano dei bonsai potati e fatti crescere in quel modo. Delle specie simili hanno avuto modificazioni diverse. Quelle due sono specie diverse che hanno avuto forme simili. scusatemi se faccio pasticci di parole, ma immaginate un po' questi nomi. Astragalo e fiordaliso. Addirittura fiordaliso spinoso, quando il fiordaliso nei nostri campi una volta era solo un bel fiore, ma di spine assolutamente non ne aveva. Lì su un suolo roccioso, di quel tipo ghiaioso, assumendo quelle formazioni, così si dice a cuscinetto, per evitare la traspirazione, per rimanere compatto, non essere brucato possibilmente dagli animali e sopravvivere in ambienti molto molto difficili. Se quella pianta la si pianta in un ambiente più favorevole, il cuscinetto diventa più grande. Andiamo avanti ancora. Altra pianta con delle foglie modificate, che non sono più foglie, il puncitopo. Quelle che sembrano foglie, dove sono attaccate spesso le palline rosse, sono fusti, sono rametti, che si sono trasformati, sono diventati appiattiti e hanno una struttura come la foglia, perché hanno la lamina più grande e fanno la fotosintesi. Perché la pianta ha eliminato le foglie e poi ha fatto fare la fotosintesi al fusto? Sempre per ridurre la superficie, farla più piccola, più compatta e non perdere acqua. L'eccellenza di questa strategia è il fico d'India, che le palette non sono foglie, ma sono fusti, appiattiti. Addirittura ogni fusto di quello appiattito sembra una grossa foglia. E le foglie sapete dove sono andate a finire? Bravo, è sempre l'intruso. Mi sa che quella da dietro è l'Etna e quindi questa foto è stata scattata dalle parti di Reggio Calabria. Pianta che cresce in ambienti molto aridi, viene dal Messico, il fico d'India, con tantissime specie e tante varietà di cui avevamo parlato. In ambiente mediterraneo ormai è diventata una pianta spontaneizzata. E la pianta che si chiama l'India? Indica per lo stesso motivo che chiamavano indiani gli abitanti del Nord America. Pensavano di aver scoperto una regione attaccata o limitrofa all'India. Conoscevano solo l'India prima di Cristoforo Colombo. Quindi avevano scoperto qualcosa, Indie. Infatti li chiamavano Indie Occidentali. E le piante hanno portato questo nome che in realtà il suo nome è Opunzia. Opunzia. Poi non contenti hanno fatto Opunzia Ficus Indica perché i frutti sembrano dei fichi e indica un'altra volta per capire che veniva da quella che pensavano l'India. Altri adattamenti ancora particolari. Tra l'altro da notare il fico d'India precedente aveva molte più spine di quello successivo. Questo è dovuto alla domesticazione da parte dell'uomo. Coltivare varietà con frutti più grossi, più belli, meno spine. Invece a sinistra del fico d'India, qui, abbiamo un cactus che si chiama Eichino cactus, Grusoni, il nome volgarmente è Cuscino della Suocera. Perché questa pianta addirittura non produce neanche un fusto in altezza. Ha fatto una palla in tutta la sua struttura, una forma globulare che ingrossa di diametro e poco in altezza, ma rimane sempre in forma sferica perché vive in ambienti ancora più difficili di quelli del fico d'India, molto probabilmente. E le spine sempre per difendersi dagli animali e per evitare la traspirazione. tra l'altro da notare che le spine sono bianche in queste piante, molto spesso sono bianche oppure c'è una peluria, una lanugine che ricopre tutta la pianta. Sempre la solda protezione che lì in alcuni casi per quanto riguarda queste cactacee ad alte quote c'è il freddo, altro fattore limitante. Non c'è acqua ma c'è solo freddo di notte, sotto zero e di giorno più 40 o più. Quindi caldo eccessivo, eccoli qua. I stomi fogliari sono delle cellule diceva una scuola all'università come due fagioli di forma reniforme messe vicino saldate a dare luogo a un piccolo foro di forma ovale. Qui c'è uno stoma aperto qui invece è chiuso. L'apertura e la chiusura di questa struttura fa la differenza tra la vita e la morte di una pianta in condizioni di stress idrici. E sono delle strutture piccole ma con un buon microscopio si riescono a vedere che si trovano nella pagina inferiore delle foglie stanno sotto. Quando a volte troviamo quell'acqua presente sulle foglie la mattina presto di alcuni ortaggi è un fenomeno che si chiama guttazione cioè l'acqua che è in eccesso nel suolo e nella pianta perché abbiamo irrigato troppo probabilmente la pianta la perde direttamente sotto forma di goccioline di liquido attraverso questi stomi che si raccogliono nella pagina inferiore sembra che c'è stata la rugiada ma in realtà quella è venuta fuori dalla pianta stessa. E va bene per adesso abbiamo finito se ci sono domande ci possiamo dedicare sì a tutto lo spazio che abbiamo fino all'ora di pranzo circa altri 15-20 minuti vedo una domanda ma non vedo il microfono ok vai forse non è acceso oltre il fico d'India come pianta antincendio utile per le siepi cos'altro cos'altro c'è a cui si potrebbe pensare una bella domanda che mi viene stata proposta molto spesso in questi giorni una pianta che può essere resistente e non è tanto non è il fuoco non è tanto attratto questa pianta è l'oleandro però il problema è che producono un substrato alla base secco quindi non è la pianta in sé che brucia ma è il substrato di foglie secche che poi può portare il fuoco alla base della pianta in ambiente mediterraneo ce ne sono forse tra poche e pochissime piante che hanno queste caratteristiche perché in ambienti aridi le piante hanno sviluppato sistemi di difesa al caldo eccessivo allevavo traspirazione ma non hanno fatto ancora in tempo a trovare un sistema di difesa al fuoco perché il fuoco è un elemento introdotto dall'uomo negli ultimi forse 5.000 anni o giù di lì e quindi in 5.000 anni la modificazione di una pianta non è stata sufficientemente lunga per arrivare in questo senso con il fuoco purtroppo il sistema migliore è quello di tenere puliti i bordi dei campi anziché arare in modo profondo si può fare una passata con la trincia che sminuzza tutto quanto o mantenere umido se c'è la possibilità di irrigare quello che è importante per il fuoco dicevamo prima durante una pausa sono due fattori uno mantenere basso il livello dell'erbacee almeno sui bordi due se è possibile ma è molto più complicato me ne rendo conto essere in pace in armonia con tutti i vicini pure quelli che si vogliono comprare il terreno e vengono ad appiccare il fuoco all'interno per cui tu puoi fare anche un muro ma se lo possono scavalcare il fuoco lo passano direttamente all'interno questo è il grave problema degli incendi cioè l'incendi applicato da un essere che si ritiene pure indelligente quando fa queste cose perché riesce a trovare il sistema di far bruciare di tutto l'alloro vanno bene l'alaterno vanno bene ma hanno bisogno di un po' di umidità in ambiente dove come si protezione barriera si va bene però in ambiente troppo caldo anche sotto l'alloro e l'alaterno si forma uno strato di foglie secche che sono quelle che poi con l'umidità venivano trasformate ma quando sono secche bruciano e bruciando lo strato di foglie innesca il fuoco anche allo strato superiore o comunque lo danneggia più o meno in modo grave e la difesa se ne parla tanto e spesso è fondata sulla prevenzione prevenzione con sistemi che purtroppo sono minimi come appunto mettere il fico d'intia o una passata con la trince tutto intorno oppure col decespugliatore e mantenere l'erra tutto intorno ma ripeto purtroppo se c'è un individuo che vuole bruciare va all'interno e non c'è problema se deve attraversare due metri di ostacolo di sera tardi magari non vorrei dare scusami siccome è importante quello che stai dicendo facciamo passare il microfono avanti per favore perché sì le pale di fico d'intia pure seccano e sono fatte da fibre meravigliose se lo puoi ripetere questo concetto così tutti che quando ci sono sui limiti insomma i fichi d'india bisogna tenerli puliti sotto perché quando le pale seccano quella fibra se prende a fuoco quella spegnerla è molto peggio è una fibra vera e propria come un tessuto non so se vi è mai capitato spegnere i tessuti è qualcosa di molto più difficoltoso appunto a proposito del fico d'india da me hanno bruciato montagne di rami che si erano accumulati di pini di tutto l'unica cosa con cui c'è stato un problema quando hanno bruciato dei fichi d'india che erano caduti hanno dovuto prendere la pompa con l'acqua per fermare il fuoco perché non la smettevano più di bruciare perché queste pale hanno delle fibre ripetevo prima fatte da tanti strati uno sopra l'altro queste fibre quando seccano permettono il passaggio del fuoco all'interno diventano come delle carbonelle sempre attive basta un alito di vento e può ripartire l'incendio spostandolo un po' più in là e la prevenzione ragazzi purtroppo la prevenzione e anche la buona educazione la cultura che fanno molto di più delle piante la pianta ha un sistema di difesa sì limitato però non ce la fa mi viene in mente una pianta buona per la difesa al fuoco ma lo diventa solo quando è di grandi dimensioni un'altra quercia che ci è sfuggita è la quercia da sughero ha delle ghiande molto simili la quercia da sughero dicevo ha delle ghiande molto simili a quella del fragno e la foglia è sempre verde e il fusto è ricoperto di sughero quel sughero lì ha una funzione proprio specifica per resistere al fuoco infatti le sugherete possono essere attraversate dal fuoco ma se gli alberi sono di una certa dimensione non subiscono danni il sughero è abbastanza resistente infatti viene usato anche per pannelli anti-incendio ci sono altre domande sì ancora dimmi volevo mi chiedevo quando si fanno quelle cosiddette trappole di fertilità o comunque ammassi residui di potatura ammassi di sterpaglie eccetera sia nei declivi che anche magari io ho un terreno sull'Etna c'è poca terra quindi vedo che fa bene mi chiedevo qual è il limite per l'accumulo l'accumulo e anche per eventuali attacchi fungini per esempio tutti ti dicono brucia le ipotesi dell'olivo mi è chiaro dipende ciò che vuoi coltivare e dipende ciò che vai a inserire nelle coltivazioni ad esempio tu provochi un enorme accumulo di humus quindi ci sono funghi e quant'altro se vai a inserire degli ortaggi o delle piante fruttifere che siano delicate all'attacco di quei funghi può essere un problema ma in natura di solito e questo è un fattore secondario non è mai un fattore principale quello di avere accumuli di compost di materiale organico in decomposizione piuttosto può essere un fattore di innesco degli incendi perché sempre per il solito mondo perverso in cui molta gente vive va a scegliere questo punto perché è ricco di sostanziore organica quando è secca dà un bel falò per gli ulivi e ne comporta solo un problema se sotto chioma per la raccolta per la raccolta altrimenti sì altrimenti non creerebbe nessun problema se potessi sminuzzarlo e lasciarlo sotto gli ulivi gli fai un grande favore come tutte le altre piante del resto sempre la raccolta che interviene dopo le reti si impigliano se ci sono ramaglie e quant'altro e diventa complicato per frutti di piccole dimensioni anche il passaggio diventa complicato ma se si può sminuzzare velocemente e lasciarne uno strato si ovvia questo inconveniente altre domande? sì io voglio chiedere per quanto riguarda la conducibilità elettrica del suolo che si vede spesso quando si acquista la conducibilità elettrica vale per diversi tipi di suoli perché un suolo può diventare più o meno carico a seconda degli elementi che lo costituiscono ad esempio un caso sempre al limite ci sono delle rocce più indicate per cariche elettromagnetiche e altre meno non ho studi sul dettaglio ma so che può variare in ogni caso la conducibilità elettrica che cosa poteva portare? ah all'assorbimento di sali minerali ok allo scambio di cateoli ok ok sì va bene in questo senso certo andrebbe misurata ma mi sembra che ci siano degli strumenti per poter effettuare questo controllo il conduttometro sì grazie altre domande? avanti ok sì prima avanti poi passiamo anche dietro dimmi io volevo sapere come organizzare una barriera frangivento ok in ambiente arido e soprattutto in un terreno anche un po' tendenzialmente argilloso arido un po' argilloso quindi basilicata interna quelle zone lì allora bisogna valutare quanta sia la componente di argilla perché è quella che va poi ad influenzare la crescita delle piante perché l'argilla dicevamo prima può provocare asfissia un frangivento se c'è molta argilla potete cominciare a partire se avete fretta sempre il solito fattore tempo con il cipresso comune una pianta ogni pianta se viene utilizzata con uno scopo specifico non viene abusata non è un problema dell'ambiente mediterraneo e anche se non lo fosse in casi estremi meglio utilizzare una pianta che viene da un altro continente e coprire piuttosto che lasciare tutto allo scoperto o ostinarsi a mettere piante del luogo se è tutto scoperto in quell'ambiente ci dovrebbero essere le querce la roverella e il leccio probabilmente ma roverella e il leccio su suolo nudo stentano e su questo ho fatto un sacco di prove di sperimenti e quindi va messa una specie miglioratrice la specie miglioratrice a questo punto potrebbe essere dicevo il cipresso o il pino d'Aleppo messi però a una certa distanza perché se sono troppo stretti questi alberi perdono le foglie all'interno e poi passerà il vento perché non sopportano l'ombreggiatura il cipresso orizzontale quello con i rami larghi il vento deve essere il frangivento ha il segreto proprio nella parola cioè frangere il vento non fermarlo e bloccarlo perché se il vento viene bloccato da un muro si creano delle correnti che superano la barriera e poi arrivano al suolo con una velocità maggiore di quella in partenza esatto invece il frangivento è qualcosa del genere come la dita della mano aperte cioè il vento deve arrivare infrangersi arriva a 60 all'ora all'entrata uscire a 20 dall'altra parte apposta esatto il concetto della pioggia nella foresta quindi un frangivento con queste specie per arrivare a noi e darti delle indicazioni precise potrebbe essere fatto con cipresso comune quello con i rami larghi a una distanza di circa 3-4 metri da pianta a pianta poi bisogna valutare se il suolo è abbastanza ricco le piante vanno velocemente o se crescono piano piano 3-4 metri da pianta a pianta se lo si vuole rendere più bello perché spesso possiamo anche curare l'estetica ogni 4 metri anziché mettere solo due cipressi orizzontali se ne mette uno a rami verticali quello compatto quello stretto che i romani lo usavano nelle villette quindi quello colonnare chiamato così quindi la stessa pianta sempre cipressi due forme diverse ti forme un pettine con denti differenti quello diventa un frangimento ottimale sembra in ambienti aridi ambienti aridi significa suoli argillosi come dicevamo dove l'argilla è prevalente proposto di quella famosa tabella dove il suolo è più argilloso che altro ci vogliono delle piante resistenti cipressi sono piante pioniere non pensate a ciò che è stato abusato ma pensate al risultato che volete ottenere con la vostra tecnica anche il pino d'Aleppo riesce ad andare bene se però la percentuale di argilla è un po' inferiore preferisce più i suoli sassosi magari se c'è argilla e pietre e il microfono sì spero di essere stato esaudiente microfono dietro per favore ok sì prima lui vai per le barriere antincendio io personalmente ho sperimentato ho trovato una pianta che adesso il nome non me lo ricordo è una pianta grassa in pratica che è piantata ogni metro ha completamente infestato tutto il terreno per caso il fico degli ottenotti quello che cresce si sviluppa carpo brotus non cresce nessun altro tipo di erba il fuoco io ho fatto proprio gli esperimenti dal secco arrivava e si fermava perché non cresceva le foglie sono succulenti non bruciano si è tutta acqua è facile da moltiplicare facile per talea basta un pezzettino tanto tu lo metti uno ogni metro io ho fatto una fico degli ottenotti ottenotti è una popolazione del Sudafrica che si nutriva dei frutti di questa succulenta che è simile ai fichi il nome scientifico è carpo brotus edulis edulis proprio perché è frutto edule è in forma dei tappeti molto compatti grazie se hai una rete la puoi anche si arrampica un po' perciò crea ancora salire carpo brotus carpo sì 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 è il frutto che si forma dopo il fiore che spesso qui con i nostri climi non avviene si moltiplica facilmente per dispersione dei rami che si allungano e quindi radicano talee naturali un consiglio ragazzi scusatemi un attimo eh sì ti passo subito c'è già Gianluca dimmi un consiglio diciamo per chi non vuole spendere tanto vuole cervellarsi troppo sì per fare il frangimento e vedere le siepi che crescono più spontaneamente certo in quelle zone e magari potandole un po' per cercare di farle alzare a un'altezza sì che sono piante che sicuramente lì si sono adattate sono di quel tipo di aridità di quel tipo di umidità è una cosa più semplice io ho dato delle indicazioni estreme e di piante piuttosto alte ma se si fa se si costruisce una bellissima siepe per esempio di filirea o di elaterno o di lentisco vi assicuro che l'effetto è ottimo è utile solo che sono piante un po' lente all'inizio e formano delle barriere alte intorno ai 3-4 metri questo è il pro è il contro rispetto al pro del cipresso che invece va subito in alto a proposito i frangivento non vengono mai potati dalla base se si può tenere pulita la base perché altrimenti il vento si infila da sotto microfono si prendi un attimo ora che ha detto di quel fico si fico degli 88 stavo pensando anche il finocchio marino il critmo marino si però foglia succulente ottimo si ma mi sembra che sia un po' resti a formare delle barriere folte di sol tende a crescere lontano dai suoi simili è proprio più vicino al mare però va bene mi fa piacere che tra le vostre idee e le vostre esperienze si può trovare sempre la soluzione ottimo se c'era anche la signorina là davanti Gianluca avanti era soltanto una domanda sull'antincendio perché da noi c'è questa credenza non so se sia vera che anche il salice funzioni come antincendio perché spruzza un vapore nei momenti di incendio vera il salice il salice il salice comune potrebbe essere però il salice già cresce in ambienti molto freschi quindi di per sé già sotto il fuoco non passa velocemente se c'è un salice perché c'è di solito del quantitativo di vegetazione verde in un suolo completamente arido il salice non va tanto bene ma il suolo un po' più fresco si se il salice può crescere senz'altro so di sicuro che il salice non brucia facilmente quando è verde sì quello è vero però va tenuto in modo un po' più compatto a livello del suolo altrimenti il fuoco rischia di passare da sotto perché è un albero quindi magari si potrebbe potare a 50 cm da terra formandone dei cespugli e delle barriere rasoterra anche a 20-30 cm si chiede un po' di manutenzione perché se lo si lascia crescere poi diventa un albero sotto si spoglia e quindi si va solo in alto sì dimmi perfetto sì allora per quanto riguarda i terreni calcarei siccome c'era il triangolo limo argilla e sabbia tolgo queste immagini per cercare di catturare quelle precedenti così ci possiamo aiutare con le tabelle ma se non questo compito non collabora va bene dimmi allora cosa delle tabelle tra terreni più argillosi o più sabbiosi i fattori che bisogna considerare sono l'umidità e il drenaggio sì per quanto riguarda invece i terreni limosi o quelli calcarei cosa cambia? allora prima di tutto la pendenza quindi se c'è pendenza questi terreni tendono a essere drenati in modo naturale se non c'è pendenza sufficiente possono creare ristagni d'acqua un'analisi che si può fare ed è indispensabile in alcuni casi dove non si ha idea di cosa da dove bisogna cominciare e questa che era affiorata e poi stata sommersa da tante idee quella della valutazione della quantitativo di calcare perché il calcare attivo nel terreno limita l'assorbimento di ferro allora diventa un problema abbastanza grave come negli agrumeti le foglie diventano gialle e cominciano a deperire in ogni modo il calcare attivo ci sono sempre degli strumenti per misurarlo va visto perché perché è un fattore molto molto limitante dopo subito dopo il calcare attivo arriva il pH come altro fattore da valutare quindi in un terreno del genere come quello che mi dicevi se non si ha una buona conoscenza o se non abbiamo delle idee non troppo chiare converebbe fare delle analisi ad esempio c'è un terreno dove c'è in pratica 30 centimetri 40 centimetri di suolo di terra rossa che è agillosa perché d'estate si spacca e l'inverno invece ci si affonda però subito sotto c'è la roccia dura bianca liscia ed è molto pietrosa trovi anche le conchiglie fossili di tuffo per esempio infatti si sospetta da quello che mi dici che ci sia molto calcare attivo perché una roccia del genere è una roccia calcarea e disgregandosi passando dalla forma solida a ioni attivi nel terreno ne va tra virgolette a inzuppare il terreno di calcare attivo tanto da non permettere la crescita di altre piante questa roccia è lo strato e substrato di molte zone d'Italia e non solo in alcuni punti si trova calcare attivo solo perché c'è stato precedente antichissimo di lavamento dalle zone calcare verso le zone più in basso e quindi il calcare si è andato ad accumulare è un fattore a cui le piante sfuggono con la crescita spontanea con le specie che sono naturalmente resistenti ma nel caso di interventi con specie non resistenti bisognerebbe andare a controllare quanto ce n'è di calcare attivo si può si può controllare comunque anche con delle sostanze di natura organica o minerale non a costi eccessivi quindi costa poco poter tentare di correggere anche perché i parametri vanno corretti di decimali non di grossi quantità certo se è possibile certo se è lunga la risposta ci vuole microfono altrimenti perché siamo in streaming quindi chi segue resta un po' male insomma ci vorrebbe la giraffa per ottemperare e correggere quelle situazioni addirittura alcune volte almeno nella mia esperienza o quella che ho visto fare ad alcuni agricoltori attenti si è apportato dove era maggiore il problema per esempio si è comprato un cambio di sabbia quello si è distribuito che non costa tanto comprarlo e distribuirlo oppure semplicemente andando a trovare un'azienda che fa degli scarti organici e distribuirli oppure semplicemente una ghiaia che non sia della stessa origine di quello tutto ciò che può andare incontro alle condizioni che ci interessano questo qui facendo così poi e piantando delle piante dando la possibilità le piante di svilupparsi facendo foglie e creando quello strato di humus pian piano poi favorisce quindi sempre rimanere un po' nell'ottica di quello che è autoctono e di quello che è vocato a meno che uno non fa poi no perché la sabbia vediamo che può essere al 30% tutto in base all'equilibrio che abbiamo anzi devo dire che è meno costoso far produrre un terreno argilloso che non uno sabbioso perché potenzialmente è più predisposto alla fertilità riesce a trattenere acqua se tu riesci a non farlo spaccare quel terreno va molto meglio aggiungo qualcosa a questo proposito riguardando la quantità di sabbia nel terreno la quantità di sabbia nel terreno può essere vista facilmente con un esperimento casalingo diciamo prendendo qualche zolla di terreno mettendola in un secchio facendola sciogliere completamente in acqua puoi scolare tutta la parte liquida che viene in sospensione quindi il fanco liquido e quello che rimane è continuare a lavarlo prendere questo terreno e lavarlo magari con un setaccio si fa prima con un setaccio sottile più è sottile il setaccio più vediamo quanta sabbia ci rimane lavandolo 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 alla fine vediamo da quel quantitativo di terreno quanta sabbia c'è naturalmente va presa a una certa profondità intermedia intorno allo strato B non in superficie né troppo in profondità e sono dei dati indicativi se vogliamo essere in base al peso sì certo possiamo anche pesarla certo possiamo anche pesarla se vogliamo fare un'analisi un po' più particolare e possiamo anche ripetere l'analisi in più punti del terreno sempre per il solito fatto che calo microfono microfono anche le battute anche le battute anche le battute allora quindi dicevamo è un sistema abbastanza semplice perché poi il quantitativo di sabbia è uno di quei fattori che va come aveva detto giustamente Gianluca ad incidere sulla fessurazione del terreno se ce n'è troppo poca a volte basterebbero pure le strigliature che sono ancora più leggeri delle sarchiature si vendono degli attrezzi che sono praticamente degli aghi di acciaio che servono solo a smuovere addirittura si usano per togliere le piantine piccole piccole di erbe infestanti dopo che si è seminato il grano che quindi ha già una radice magari di 10 cm ci sono quelle appena nate facendo una strigliata muoiono quelle che sono piccole e quindi può essere utilizzato per non fare iniziare quella fessurazione perché quella fessurazione se avviene cioè si lascia andare avanti si asciuga velocemente anche fino a un metro come diceva lui se piano piano quando si inizia a creare da piccoli lo strigliamo tende a chiudersi e quindi difficilmente si continua a spaccare pure le galline fanno un buono quando stanno sempre a ne parlavamo nei giorni precedenti una buona azione di rimescolamento e miscelazione di tutto quello che sta nello strato superficiale nel terreno ci sono ancora altre domande? sì qui avanti se per favore fatelo arrivare avanti leggendo i libri di Fukuoka lui suggerisce di utilizzare l'acacia nera per migliorare il suolo facendo crescere quest'albero e poi dopo un tot di anni tagliarlo esiste un corrispettivo di acacia che può fungere alla stessa l'acacia l'acacia più simile che svolge a questa funzione è la robinia pseudo-acacia leguminosa però anche più forte e tende ad essere invadente ma la si può controllare perché ripeto è sempre anche dalle radici oltre che dalla base anche se partono i polloni anche se si fa un piccolo scavo distante e si intercetta una radice superficiale se la radice viene tranciata la parte che rimane indietro lontana di stare dalla pianta parte subito e cresce un'altra piantina o più ma è vero? questo sistema io dall'esperienza che so so che le leguminose arricchiscono sempre il terreno dove ci sono le scarpate della strada ricche di robinia e non vengono disturbate dagli incendi si crea una lettiera ricchissima tanto che è facilmente osservabile in questi boschi in queste macchie di acacia dopo 30 anni stanno cominciando a crescere le roverelle quindi l'acacia è andata a sfruttare e a svolgere la stessa funzione che facevano i pini o i cipressi in altri ambienti solo che l'acacia ha bisogno di terreni sciolti i terreni asfittici compatti troppo duri che si fessurano non cresce bene andrebbe bene quasi sui terreni rossi della Puglia va bene ovunque però attenzione perché poi crea dei problemi di manutenzione le piante non sono mai degli alieni che ci scappano dal controllo e mangiano tutto quello che c'è intorno non esistono piante neanche quelle carnivore che si comportano così e quindi se si vuole arricchire il suolo e non si ha sempre alle spalle il fattore tempo che è un limitativo si può provare senza altro è un miglioramento del suolo meglio Robinia che buste di plastica sparpagliate per tutti i territori questo è l'esempio estremo che voglio dare perché era venuto fuori anche prima un terreno abbandonato sia che di natura privata o pubblica diventa una discarica di diritto perché chiunque vede sto terreno abbandonato si sente in diritto di poterci a buttare qualcosa e il primo butta un fazzoletto poi il secondo butta una busta e poi alla fine si comincia a scaricare con un camioncino detriti e quant'altro quindi questo è il problema ma invece un posto custodito in certo qual modo con degli alberi già diventa più ostacolante l'immissione di queste di questa sorta di problematiche diciamo così quindi va bene va bene si 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 anche altre non infestanti anche la famosa mimosa però la mimosa spesso è innestata su un portinnesto che si comporta molto simile a quella della Robinia sull'autostrada Napoli-Roma spesso ci sono delle macchie di mimosa grandi come quelle di Robinia e si distinguono facilmente in estate o in inverno per la foglia grigiastra e una mimosa a tutti gli effetti che è scappata dalle coltivazioni adiacenti quando hanno fatto l'autostrada c'era qualche mimosa hanno tagliato le radici e è andata a crescere una scarpata perché la scarpata era ben drenata e il suolo è ricchissimo in quel punto oggi si formano delle macchie enormi come le Robinie e si vedono durante la fioritura perché sono degli alberi o arbusti molto grandi di colore giallo quindi attenzione a cosa c'è sotto come portinnesto anche l'albero di giudo in ambiente mediterraneo è un po' lento come cresce specialmente all'inizio perché si assicura un buon ancoraggio negli strati umidi profondi può crescere anche sulle pietre anche il carrubo è una leguminosa ma anche quello è un po' più lento come come hanno una funzione forse limitata beh sui libri è indicato sempre che ogni leguminosa anagirist no non la conosco perché probabilmente no non mi sono mai imbattuto ma è un arbusto ah ok sì ho capito come può essere sì per esempio una pianta una pianta che può andare bene sui calanchi nelle zone aride per fare arbusti e che non sia tanto soggetta al fuoco come la ginestra si chiama vescicaria il nome è colutea arborescenza fa dei frutti anziché essere delle silique piccole schiacciate sono grosse come delle vesciche e la struttura di queste vesciche è come la carta pecora sembra una fibra indurita che si potrebbe anche lavorare vescicaria o colutea arborescenza molto simile a quella che dicevano le perde d'estate sì questa è un'altra è un'altra è un'altra forma di è un'altra forma di è un'altra forma per sfuggire all'aridità di adattamento non mi veniva il termine un'altra forma di adattamento all'aridità molte piante in ambiente mediterraneo arbusti si comportano come gli alberi della savana quindi nella savana molti alberi maturano i frutti e perdono le foglie nel periodo caldo queste fanno lo stesso modo anche la ginestra stessa appena cresce ha delle foglioline piccole che perde dopo pochi giorni poi dà luogo alla maturazione dei semi e intanto rimane solo con i fusti a fare la fotosintesi sì quello è un caso un po' più estremo sì perché e se puoi usare il microfono per favore così diventa più semplice puoi ripetere scusami puoi ripetere il nome di quella pianta Anagiris fetida Anagiris fetida Anagiris fetida Anagiris fetida è che una forse l'unica in questo areale che viene impollinata da dei passeri è entomogama è un'impollinazione entomogama ottimo e poi è anche mellifera quindi una specie utile per le api sì è molto interessante tutto questo perché ritorniamo a qualche immagine di alcuni giorni fa dove anche i passeri anche dei piccoli uccelli possono svolgere delle funzioni importantissime quando manca l'impollinatore specie specifico può estinguersi quella pianta se non trova altre soluzioni quindi ogni animale ogni specie dal piccolo batterio al grosso elefante sono tutti indispensabili a qualche cosa nel loro ambiente le emissioni di cui parlavo sono quelle da fare attenzione perché spesso le emissioni vanno valutate prima di inserirle uno per non perdere tempo un altro per non perdere soldi e altri anche per non per non rimanere delusi dall'esperimento che è stato fatto quindi è importante grazie le galline che fanno pulcini mi sono capitate da vicini che da vicini che avevano delle razze più o meno ibride con quelle moderne quindi erano dei vicini che avevano lasciato queste razze semi-ibridate con quelle moderne e la caratteristica ogni tanto veniva fuori cioè non tutti i pulcini non tutti i pulcini che crescevano quindi le galline riuscivano a incubare le uova loro ne avevano alcune mi sono fatto dare quelle uova anzi no quei pulcini scusatemi e poi ne ho tratto delle galline che sono alla fine sono riuscite a covare e altre domande? sì dimmi forse non ho capito bene io il discorso sulla mimosa e la rubinia ah ok cioè possono essere innestate su porti innesti non leguminosi e quindi non fissano no 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 hanno porti innesti dello stesso genere sono sempre leguminose però il porti innesto della mimosa a volte si comporta come la rubinia poi la rubinia di per sé comunque può essere innestata con altre forme di piante senza spine con i coli con i fiori colorati con le foglie colorate o con la chioma ben compatta ce n'è una che si chiama addirittura umbraculifera rubinia pseudocace umbraculifera che fa una forma rotonda e produce solo ombra ed è compatta rotonda ad alberello come se fosse potata ma non ha né spine né fiori apposto appunto per produrre l'ombra poi ci sono le rubinia foglia variegata foglia singola fiori rossi gialli e quant'altro tutte le sono specie e varietà della rubinia come la mimosa che esistono delle mimose a fiori bianchi oltre che gialli oppure rossi eccetera spero di essere stato un attimo solo il microfono qui è meglio il microfono se no io rispondo rischio di rispondere a una domanda che non ha senso se non si ascolta la risposta la domanda da casa se si riesce a sentire solo la risposta altre due domande sul carrubo no volevo sapere se si potevano spendere due parole sul carrubo il carrubo spesso quello selvatico nato da seme è una pianta autoimpollinante spesso non vuol dire sempre a volte capitano degli individui che hanno una produzione di polline limitata e quindi è consigliabile mettere altre specie intorno il carrubo può essere innestato con varietà che fanno dei frutti un po' più grandi un po' più succuleni un po' più buoni più adatti al consumo alimentare e allora anche in questo caso si ricorre all'innesto però quando si va nella direzione del frutto grande bello lucente si perde la quantità di polline e quindi le varietà innestate spesso hanno bisogno di un selvatico oppure di una varietà che sia autocompatibile con quelle domestiche sempre carrubo dalle mie conoscenze non ci sono tante varietà di carrubo le varietà sono abbastanza limitate però la fascia ideale è quella dell'arancio però su suoli drenati possibilmente quindi va bene qua in Puglia in Sicilia alcune coste della Calabria dove c'è clima asciutto secco roccia fiorante anche poco suolo se il suolo è profondo tanto meglio crescerà più velocemente ma ha bisogno di spazio è una pianta molto lenta ma diventa un grosso albero e poi è molto bella anche come pianta ornamentale oltre che la funzione alimentare in passato erano diciamo l'alimento principale per i cavalli in certe aree che usavano per i lavori in alcuni casi si penetra un po' più su però dipende sempre da quei famosi fattori di temperatura e di gelo che perdura durante l'anno per esempio da me cresce in alcuni punti da scegliere proprio con oculatezza e non dappertutto però una volta che cresce sono sempre alberi isolati individui molto distanti e probabilmente non producono pollina a sufficienza per cui non si ha produzione di frutta anche perché insomma è una pianta di quote più basse non interne dell'appennino ma nella val d'agri la zona a cui ti riferisci nella parte bassa della val d'agri su una scarpata su un margine vicino a un margine stradale o con della ghiaia fluviale sotto si potrebbe tentare ne varrebbe la pena perché è un bell'albero come resta un po' tutti grazie a tutti